Volevo rivolgere un saluto a tutti quanti da parte dell'autorità, ovviamente mi è un piacere essere qui con voi, non è la prima volta, mi ricordo qualche anno fa partecipai ad un'iniziativa che andava nella stessa direzione, anche se era un po' diversa, che era un accordo tutti in rete, si chiamava, tra la regione Piemonte e il Corico, il Movimento Scolastico Regionale, e questo dimostra una consolidata sensibilità e capacità da parte delle istituzioni piemontesi, in particolare da parte del Corico, ma che anche allora ne fu promotore, di avere questa sensibilità verso il mondo dei giovani, dei minori e verso l'approccio consapevole nei confronti delle nuove tecnologie. È un argomento molto difficile, sulla quale penso che nessuno possa spendere parole di verità, ma tutti quanti siamo all'interno di un percorso dove ognuno può dire la sua, ma poi alla fine potrebbe essere smentito da un momento all'altro dagli eventi. Noi abbiamo subito nel corso degli anni un'accelerazione da parte dello sviluppo delle tecnologie, dei moderni mezzi di telecomunicazione, impensabile, basti pensare a quanto ci è voluto per arrivare dalla carta stampata alla prima televisione, alla prima radio e poi dalla prima radio a quello che abbiamo adesso, soltanto negli ultimi anni. Questo ci fa capire come è stata una specie di big bang tecnologico ed informativo, alle quali spesso anche le norme, le leggi e i regolamenti che noi cerchiamo di applicare in via diretta, delegati, interpretare, spesso non sono capaci di interpretare in modo migliore un'attualità in così rapido e tumultuoso cambiamento. Io nonostante voglio dire la più che lo devo l'iniziativa dell'autore ho l'impressione che si tratta un pochino come cercare di vuotare l'oceano con un bicchiere perché dare oggigiorno interpretazioni di questo tipo su come gestire Facebook, poi Facebook è uno dei tanti social network perché quindi insomma alla fine, mentre noi ci focalizziamo l'attenzione su Facebook, magari i giovani di oggi sono già orientati su mille altre piattaforme, mille altri ambienti di socializzazione virtuale. Il problema è che ovviamente va da una parte alfabetizzato il mondo genitoriale, cioè vanno acculturati i genitori su un mondo che non conoscono. Io ho un figlio che deve fare quattro anni e per lui è già tutto in mondo digitale, a volte va di fronte alla televisione e dice ma perché non scorno le immagini col dito? E quindi è già, sono capaci di interagire con i device più diversi. È un mondo che spesso, nei giorni scorsi c'è stato un convegno sullo stesso argomento dove c'era il Presidente del Census, De Rita, che raccontava com'è. Nonostante queste piattaforme virtuali danno l'impressione di essere sempre connessi e quindi di vivere in una grande vicinanza nei confronti degli altri, però proprio questa idea di autosussistenza, di pensare di essere sempre capaci di arrivare dovunque con chiunque, invece fa rifluire sempre di più ognuno verso se stesso, verso un individualismo per il quale alla fine impedisce poi di avere dei contatti, dei rapporti che siano al di là di quello che sia un click virtuale. Noi come autorità ovviamente siamo all'interno di un percorso dove dobbiamo garantire l'applicazione di norme, di regole che spesso, come dicevo prima, sono difficilmente, escono difficilmente a stare al passo con i tempi. E così anche nel dare le deleghe ai comitati, nel dare la deleghe in materia di tutelare dei minori, più in generale sulla vigilanza, ci rendiamo conto che spesso vorremmo interpretare un mondo che è difficile da definire, da interpretare e anche da comprendere in quelle che possono essere le sue applicazioni dal punto di vista della violazione delle norme, di capire dove ci sono dei pericoli, incombenti, dove deve essere ricompreso il limite tra libertà di espressione e della capacità di utilizzare questi nuovi moderni mezzi di comunicazione dal punto di vista educativo, dal punto di vista dello sviluppo della persona del mio e dove possono essere invece i limiti che possono essere scontrati e ogni viso spinto. È ovvio che questo deve essere uno sforzo che deve essere fatto congiuntamente in primis dalle famiglie, dalle istituti di formazione, dalle scuole, perché è difficile pensare che questa attività possa essere delegata solo ed esclusivamente a chi deve applicare le norme e poi deve applicare delle sanzioni, ma non può intervenire laddove, ma ha iniziato un processo di accompagnamento, di formazione, di culturazione che soltanto laddove il minore ha il contatto con la famiglia e con chi inizia a dargli i primi rudimenti dal punto di vista educativo può piano piano iniziare a costruire una consapevolezza ad un utilizzo di mezzi che in questo momento ci trovano tutti quanti con un punto interrogativo sul presente e sul futuro. Io non posso fare altro che augurare a tutti quanti di interpretare al meglio queste nuove sfide e ai ragazzi che sono in sala cercare di capire che spesso e volentieri la libertà rischia di sconfinare nell'arbitrio e nella incapacità di capire che dove finiscono la propria libertà dove iniziano anche la libertà altruvia, quindi un rispetto reciproco di fondo che deve essere costruito e deve essere coltivato passo dopo passo. Anche voglio dire andare in autostrada e passare un casello ti permette di correre velocemente ma solo se non c'è i limiti e soprattutto dopo che hai consapevolmente assunto la responsabilità di saper guidare un'auto, di aver passato un esame, di sapere quello che ne compete. Lo stesso attualmente le grandi reti di comunicazione, entrare in internet, eccetera, è come in una grande autostrada dove però ci possono essere i rischi di andare a sbattere oppure di andarsi a scontrare o di farsi male. Quindi questo non vuol dire che non bisogna ogni giorno intraprendere dei viaggi bellissimi però bisogna sapere che bisogna ogni tanto capire quando bisogna mettere il piede sull'acceleratore e quando sul freno e quando addirittura fermarsi e riflettere un attimo. Grazie.